Guido Tonelli vince il premio istintino divulgazione scientifica 2019. Lo scienziato del CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, ha ricevuto sabato 4 agosto, nella sala conferenze del MUT, l'importante riconoscimento dal sindaco istintino Antonio Diana e dalla direttrice del Museo della Tonnara. Non è certo nuovo il fisico toscano ai premi. Oltre ad essere commendatore della Repubblica Italiana, è stato insignito, tra gli altri, del premio internazionale Fundamental Physics Prize e del premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica. Di Tonelli, uno dei padri del bosone di Higgs, si riconosce in particolare, nelle motivazioni del premio, la capacità di divulgare, intessendo racconti che sono esplorazioni avventurose ai confini dell'universo. La sua continua ricerca di uno sguardo che vada oltre il limite del conosciuto, ha mutato la visione del mondo, esortando la collettività a sentirsi parte attiva del cambiamento culturale in atto. Proprio lavorando come pedagogo a Sassari negli anni 90, il fisico ha intrapreso le ricerche che lo porteranno, vent'anni più tardi, a coordinare gli esperimenti di Ginevra per la scoperta della particella di Dio. Il premio ben rappresenta l'attenzione che il nostro museo ha dato, dall'apertura ad oggi, alla divulgazione scientifica, nella profonda convinzione che la promozione e la comunicazione della cultura scientifica al grande pubblico contribuiscano alla crescita della società, ha sottolineato la direttrice del MUT Esmeralda Ugi. Intanto gli appuntamenti del MUT continuano tra il 7 e il 10 agosto con concerti del repertorio sardo e celtico insieme a una mostra sulla tonnara di Porto Scuso.